Ciao, sono Michela Coppa. A Vuciale, in Etiopia, c'è una scuola che è più di una scuola. È il posto dove i bambini imparano a credere nel loro futuro. L'ha costruita il CIFA grazie al vostro aiuto. E sempre grazie a voi, ancora più bambini avranno la possibilità di studiare e di guardare un domani diverso, che non li costringa a scappare in un altro paese. Aiutiamo questi bambini con 2 o 5 euro inviando un SMS o chiamando da rete fissa il 45520. Aiutiamoli a crescere nella loro terra. Grazie. Grazie.